musica 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 e dopo questa intro bellissima apprestiamoci a entrare nei wkich words no cosa cazzo ho cliccato allora degli arena craft intanto ci sono 50mila persone non essendo in bug out intanto non essendo in fusion craft sarà leggiamente difficile ah ci hanno in descrizione e ci vediamo quando sarà finito i secondi e tutto dove sei dolce sono qua METZE GO! e quindi a dopo non ci sei eh dobbiamo riuscire eh no dobbiamo riandare al lab veramente si che palle tanto tallero questo che senti non so si forse forse cazzi tuoi voi no no sto scherzando eh qual'era? ah dai che forse buongiorno mi sono qua da aspettare sono all'altese ah ecco allora piano piano 2 2 1 1 bene ci sei? si si ci sei ci sei vuoi farlo? perché te sei entrato dopo e mi ha detto x padrono game mi era entrato ok vai c'è wolfhark è entrato oggi gianji gianji ai limiti dell'evoluto vai riprendesti ferro secondo te ok siamo ritornati si bla 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 bell removed oooh che schifo schifo bella mia rihanna più troppo abituato a giocare nel set semi mi piace la mia arma più potente è il piccone di fermo 5 mila d'oro, grande lassi mamma mia c'è una cesta? ho 10 mila d'oro già all'inizio qualcuno mi sta tirando le frecce esplosive qualcuno mi sta tirando le frecce esplosive master sword, spada di roba di roba e tante robe qualcuno mi sta tirando le frecce esplosive non morire ma guarda, frecce esplosive armatura, pantaloni via sti diamanti del cazzo no, mi sta ammazzando no, non morire è la mia isola, è distrutta ma cosa figa, come faccio a venire nella sua isola? non so neanche dove sei c'ho poca vita e non c'ho più riparo quindi Marco ci prova io sono al centro che hai fatto? io non ho hand c'è uno giù full diamond è jumpy c'è uno giangy io sono sopra ho un piccone in ferro mi arma potente io ho la master sword, mi sento l'inco oggi io mi sento un cazzo in pratica è una spada di diamante che ha sharpness 3 affidatezza, detto in italiano che in pratica detto in italiano questo qua mi fa il culo che ha 10.75 dov'è? non lo vedo più è un raffreddore della madonna non c'è notato di me non è notato di me potrei no, sono tutte due full diamante che voglio fare team no, mi sento in una parte perché? perché si è illuminato tutta d'un tratto? perché c'è qualcuno solo? Marco, sono due full diamante al centro che vogliono fare team contro di me che non ho un cazzo quindi mi sa che no, uno si è tipato uno si è tipato ma ha sbagliato l'enderfield e questa volta l'ho presa però lo sto ammazzando, lo sto ammazzando, lo sto ammazzando ehm, Marco addio ma te li vuoi vedere in questo server? no siamo in taglio mega galattico Marco è morto, cioè è Dorf è morto oggi sono infelice si sente è Dorf è morto ho trovato l'arco fiamma 1 l'arco che esplode con l'achiblock gansissimo ma ho trovato la cesta la cesta è qua dietro che cazzo è la cesta? è dietro è visto che c'è l'albero, è dietro io non... non so dov'è è visto che c'è un albero in cima si ma ci sono... eh ho preso dietro è delle foglie, dietro c'è delle foglie porca puttana Marco non è spero dammi qualcosa di bello opse guarda su basta lava io lo sai che arma ho? zappa di Thor io ho... ehm... sto scherzando, ora ho lo stecchino con contracolpo 2 io ho una diamante ho quasi tutta l'armatura full diamante con... e ti posso spiegare, allora, a parte gli stivalini che sono caduti nel vuoto io non ho un cazzo come ti posso spiegare, allora, ehm... l'armatura di diamante è semplicissima, solo che ha Blast Protection 4 quindi... io non ho un cazzo sono accanto a te, oh sono alla tua destra beh io sono serio sono alla tua destra lo so, non me ne frega un cazzo, non trovo la cesta è dietro, lo vedo io da qui, e vedi l'albero in cima vai in cima all'albero aspetta un attimo un... una cesta lol con 5 cose, bene allora, vai in cima dov'è? l'albero in cima anche se non ho più lava io che non lo so anch'io, eh, c'è lava per fuoco in cima, vai alla parte dove sono io ecco, spacca le foglie, spacca le foglie sotto di te sotto di te ah, eccoti ecco te oh, spadozzo e diamante, cheat io non ho un cacchio eh, io ho tre... io tre andate per me eh, vengo da te, va bene vieni da me vieni da me perchè non ho una spada alakbar che culo oh jesus devo andare via cosa, sono io, sono io, sono io sono io c'è uno stecchino eh, mi... una spada ehm... arro arro ce l'hai? io ce l'ho stecchino oh, no ce l'ho già andiamo al centro tieni questo dove è l'ender per scusa? ah niente però ah, ecco oh, ah, la smè... ah, si era buggata ok ce l'ho guarda bene il vulcano robo là ok sei al centro te ah ah marco no ce l'hai già io ho la master sword io ho questa per te cosa? ah ah ma sei un coglione aspetta 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 tappa questa lavo no questa oh oh, bravo orange ma è l'unica cosa che ti è... che mi è rimasto eh, ma allora sei bastard magari la ritroviamo, dai eh oh, altre cinque mele d'oro tenga... mh bikerreno lasciamo quattro mele d'oro ora ti finisco ecco le riprese mamma mia cheat la la ti prego ti prego e le riprese te eh cosa... cosa ho bello? mele d'oro mele d'oro basta troppe mele d'oro a me non ce l'ho neanche una oh cinque meno male non ce l'ho neanche una c'è un altro lucky one block un arco a caso io fiammo io non ho un cazzo questo arco sparerai tre frecce contemporaneamente usando solo una porca putt io via faccio così faccio l'acab c'è il piccone con efficienza e mele d'oro io faccio io faccio il metodo più classico non dovrebbe esserci nessuno qui al centro tranne due noi ah, hanno finito no eh, spacca col piccone con quale piccone che... aspetta dove sei? ecco la tua strada ok, io sono fuori c'è uno dietro i te come c'è uno dietro i te è qui qui muori 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 c'è una tanta armatura aspetta no ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho allora stivalini le snoople qui no non esplodono ci avevi... no ce l'ho già le stivalini poi esplodono dicono non esplodono no, c'ho mezzo in diamante mezzo in... cazzi io... io c'ho... no, perchè vedo nero? no, non l'ho preso dov'è, dov'è? ma ce l'ho una... ah, ce l'ho a me un coso è laggiù ah, è laggiù ma buongiorno sparo, 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 sparo ma c'ho poche fregge eh, cazzo e c'è solo un accesso veramente oh, ma... cazzi vada su guarda bello che cazzo è? lo so però ogni tanto io faccio uno screen all'aria così ho finito le frecce che bello ce la lavo non c'è più dietro l'alba ok ah, ma è là! ho capito dov'è no, non l'ho fatto aspetta una roba a cazzo aia, aia, aia no, no, non fare passare no no ciao daniele, però sei un bastardo eh ma guarda ho vinto io stavo a fare il screen, Dio Gesù ho vinto è il lezzo dai, appena, lo devi fare è il lezzo Ok, prossima partita e poi fine Voglio un dislike solo per quello Prossima partita e ci vediamo tra poco Taglio Mega Galattico Ok, cosa devi vedere? Ok, siamo ritornati Mega Tagliozzo Te l'ho dimenticato perché c'è il video comunque Ah, te l'hai dimenticato Cioè No, non sto facendo un video Marco Esplosione Poi Marco! Arco triplo E poi spara mucche Spara una mucca E' come se già ti passi al centro Scioponi Scioponi, mamma mia Non puoi sciopare quello E poi dici te il sciopone Ma io non sto sciopando Non puoi sciopare No, la zappa della madonna Sto ammazzando uno Sto ammazzando uno Sto ammazzando uno Sto ammazzando uno Io sto prendendo fuoco Dove sei? Mori... ho ammazzato uno la valente per grazie amico ora è stato morendo per il cuoco da te prego un cuore che il culo e conoscenza e full diamond e questo mi fa un cazzo sul daino soccato ho ammazzato due tizi e sono caduto ma veramente c'era un buco enorme vabbè aspettiamo d'orfe e poi si dirò sempre così e noi ci vediamo alla prossima video sono in culo buah